Salve a tutti, breve video sui miei ultimi acquisti di novembre e di dicembre Allora, intanto per incominciare, vabbè, sono pressa poco i soliti, le mie solite uscite a parte un paio di new entry Intanto eccolo qua, Angel Art Come al solito l'ultimo numero, 4,50 euro Dopodiché il numero 20 di Ketosen Eccolo qua Finalmente si muove qualcosa di Ketosen E qua le mie ultime new entry Intanto di Masakazu Katsura e Akira Toriyama Eccolo qua Delle short stories E poi, ultimo ma non meno importante Ecco qua GTO Lost Paradise Signori Detto questo, grazie ancora per avermi seguito qua per questo ultimo video dei miei ultimi acquisti Ciao a tutti Ciao a tutti, al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti